salve ragazzi e ragazze oggi vi spiego come all'occorrenza potrete prepararvi uno smacchiatone per colli e colsini allora avete bisogno dell'acqua distillata del bicarbonato un bicchierino di detersivo per i piatti e uno spruzzino che avete utilizzato e che avete finito allora per primo io metto un cucchiaio di bicarbonato poi aggiungo il detersivo per i piatti e porto fino a all' livello insomma del contenitore con l'acqua distillata state attenti perché io ho fatto un pastrocchio perché per vedere se stavo riprendendo ho messo più acqua del normale ed è uscita la schiuma versatela piano piano comunque una volta che avete versato tutti questi componenti insieme dovete agitare vedete ecco infatti qui ho fatto un po di di casino come al solito e chiudete ovviamente il vostro spruzzino e lo agitate un pochettino per far sciogliere più che altro il bicarbonato e fare in modo che il sapone e l'acqua si amalgamano insieme una volta che avete fatto questo 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 prodotto lo potete spruzzare sui colli e sui pulsini oppure anche su quelle macchie grasse tipo di rossetto e sarà utile per per i vostri lavanti